Che partita? Ha ben detto che negli ultimi 5 partite ha invertito la rotta facendo risultati importanti di cui l'ultimo che hai menzionato addirittura anche rimonta compreso la prestazione anche straordinaria che hanno fatto Siriuso dove era andata anche di due gol avanti e quindi presentiamo un avversario che già i numeri penso che dimostrino ultimamente quanto stia facendo bene a questo aggiungo che è un avversario che ha una guida tecnica importantissima per questa categoria il mister Pitatella ormai un allenatore navigato d'esperienza e questo per noi fa alzare sicuramente il coefficiente di difficoltà della gara da parte nostra consapevoli che incontriamo un avversario che per DNA ha un impronte importante riguardante la fase difensiva e riparte bene quindi è una squadra che in contropiede riesce a far male lo dimostrano anche i numeri non per caso sui 28 punti fatti 18 sono stati fatti fuori casa è una squadra di categoria una squadra che ci ha messo già in difficoltà all'andata quindi dobbiamo stare ben attenti e in guardia e pensare che sicuramente non sarebbe una passeggiata e non possiamo sbagliare assolutamente l'atteggiamento